Vlaovic è osservato dal Paris Saint-Germain, secondo il calciomercato, esso. Ma prima del telegiornale vi chiedo se siete un tifoso bianconero di lasciare un like al video. Perché a te non costa nulla e per noi vale oro? Calciomercato, ecco, parla di un possibile interesse del PSG per Dusan Vlaovic. Il club parigino sarebbe, infatti, alla ricerca di un primo attaccante da Tifare Mbappé. Il Paris Saint-Germain starebbe quindi osservando la situazione e monitorando anche il nome del serbo. Tuttavia, Vlaovic è una delle stelle della Juventus, del presente e del futuro. E considerati non cedibili dalla società. Ma il PSG potrebbe mettere tanti soldi per convincere la Juventus a vendere il serbo. Dusan Vlaovic ha grandi potenzialità per diventare un grande giocatore del mondo. Nonostante il calo degli incassi alla Juve rispetto alla Fiorentina. E tu tifoso della Juve, sarebbe bello vendere Vlaovic? Lascia la tua opinione nei commenti. Fino al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!